Licenziamenti congelati fino al 31 marzo. Si procede passo dopo passo per trovare una soluzione alla crisi della Liar. La storica fabbrica metalmeccanica di Grugliasco a causa della crisi ha annunciato il licenziamento di 480 lavoratori che però non verranno ancora eseguiti. Fino alla fine di marzo si cercherà invece di raggiungere accordi con i lavoratori per uscite volontarie, come già avvenuto per 140 di loro. Intanto si continuerà con l'erogazione della Cassa Integrazione in deroga. L'accordo arriva dopo una giornata di scioperi e dopo l'incontro all'assessorato al lavoro tra azienda e sindacati. Durante la trattativa una delegazione di lavoratori ha manifestato davanti all'assessorato regionale. Questa fabbrica fa sedili esclusivamente per la Fiat e quindi non avendo commesse dalla Fiat producendo solamente vetture Musa Idea che non vendono grossi volumi non presenta prospettive lavorative. Si lavora una media di due giorni al mese e quindi noi siamo anche in esubero quindi dobbiamo fare anche una rotazione rispetto a questa produzione molto bassa. Allora la crisi, la Fiat innanzitutto Marchionne che continua a promettere e non far partire lavoro perché lui dice che partirà nel 2014 però rimane questo grande buco di noi come persone come noi ma ce ne sono tante altre fabbriche in questa situazione che essendo che non c'è più lavoro nelle fabbriche praticamente il loro pensiero è quello di mandare via la gente non c'è lavoro, mando via la gente. Quindi si spera anche in un intervento del governo che tuteli comunque queste cose, che faccia pressione al signor Marchionne perché tutto questo avvenga il più presto possibile perché i posti di lavoro sono veramente troppi e sono tanti a rischio.